Ciao a tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi voglio farvi il video tag Se io fossi Allora, voglio solo dirvi che questa è la quarta volta che rifaccio questo video Si, perché non riesco a farlo, non so perché Allora, iniziamo Se fossi un sapore sarei dolce Se fossi un oggetto da collezione sarei le conchiglie Perché io collezionavo Se fossi una pietra sarei il smeraldo Se fossi una musica sarei pop o moderna Se fossi una canzone sarei Bregorò di Giorgia o Dimentico tutto di Emma Se fossi un fiore sarei la rosa o il girasole Se fossi un colore sarei... Sì, se fossi una pianta sarei l'ortensia Se fossi un colore sarei il giallo Se fossi un giorno sarei la domenica Se fossi un mese sarei marzo Se fossi un animale sarei il cane Se fossi un film Braccialetti rossi anche se non è poco un film Se fossi un libro io non leggo libri Se fossi una stagione sarei la primavera Se fossi un elemento della natura sarei il mare Se fossi un tessuto sarei la seta Se fossi un cibo sarei la nutella Se fossi una direzione sarei destra Se fossi una città allora sarei Parigi, Roma e Venezia Poi se fossi una parola sarei TVB Se fossi una parte del corpo sarei gli occhi Poi Se fossi un gesto... Allora lo so che il gesto si intende per le corna o per il dito medio Però io come gesto anche il ciao così Penso che sia un gesto Quindi così, ciao Se fossi un peccato, boh Se fossi un evento atmosferico sarei la pioggia Se fossi uno strumento sarei o la chitarra o il flauto Se fossi un'emozione sarei la felicità Se fossi un negozio sarei Piazza Italia Adoro Piazza Italia Se fossi un'auto sarei la Panda Perché a me piace tantissimo Se fossi un indumento sarei la maglietta O una felpa Se fossi un'opera d'arte sarei un quadro antico Se fossi un accessorio sarei orecchini O bracciali Se fossi... Scusate... Oddio, mi sono perso il segno Ecco, se fossi una parola... Vabbè, dimmo... Sarei TVB Se fossi un regalo... Un orario del giorno sarei... Allora, o le 9 o le 4 e mezza 5 Poi, se fossi un articolo... No, aspetta, scusate ragazzi Se fossi un pianeta sarei Saturno Se fossi un articolo di arredamento sarei o l'armadio o il letto Se fossi un personaggio storico sarei... Non lo so... Se fossi un liquido sarei l'acqua Se fossi un albero sarei il salice piangente Poi se fossi un uccello sarei l'aquila No... Sì, vabbè, mi piace l'aquila Sì, l'aquila Diciamo Se fossi un piercing sarei... Non lo so, perché... Non è che conosco piercing Però, se si intende piercing anche il secondo buco... Sì Il secondo buco Vorrei essere Se fossi un personaggio mitologico sarei... Non lo so Se fossi uno strumento sarei... O... O il... Un'altra volta O la chitarra o il flauto Se fossi un materiale sarei... Il legno Perché a me piace molto l'odore del legno Se fossi un profumo sarei... Oddio, aspettate Sarei quello della viola, della rosa o della vaniglia Se fossi un oggetto sarei... Il telefonino Così Se fossi un'espressione del viso sarei divertente Se fossi una materia scolastica sarei la storia Se fossi un personaggio di un cartone animato sarei... Topolina Anche se... Vabbè io non mi metto topolina Però mi piace molto topolina O paperina Se fossi un... Una forma... Una forma sarei... Allora Se si intende per forme geometriche sarei il quadrato Se no se si intende per forme varie sarei il cuore o la stella O il segno dell'infinito Che mi ricordavo come si faceva però... Non so se è questo o quale Attacca Beh non so come farvelo con le dita Tipo così Ecco Poi se fossi un numero sarei il 7 Se fossi un poeta sarei... Non lo so Se fossi una poesia sarei... Non lo so Se fossi un'attrice sarei Martina Stoess O Lodovica Comello Se fossi un dolce sarei il cioccolato Se fossi un gusto gelato sarei... Allora O il cioccolato o il biscotto Perché qui da me c'è una gelateria Che... Non so se avete presente i baci a braccio Metà cioccolato e metà... Vaniglia Penso che sia vaniglia Sì Vaniglia E quindi ci hanno fatto il gelato Ed è buonissimo E quindi questi E poi se fossi un peluche sarei... Quelli grandi I peluche giganti Se fossi un personaggio della tv Sarei... O... 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 O francese... O violetta O francesca Ecco E di maschio O maxi O... Ovviamente leon Poi se fossi un personaggio di un film Sarei... Io non è che seguo molti film Quindi vabbè Bracciaretti Rossi Non è molto film Però di personaggi Loro Non è che sono proprio personaggi Così Però Vabbè Si sarei... Non lo so Se fossi dio Boh... Se fossi cane Sarei un chihuahua O... Un pincher O yorkshire Se fossi un... Un gatto Non so Non conosco gatti Se fosse tardi Non capita molto bene questa domanda Però Se fosse tardi Dormirei E niente ragazzi Il video tag era finito Spero vi sia piaciuto E al prossimo video Ciao a tutte Ciao a tutti